Primo incontro della Commissione Tecnica riguardante il servizio idrico integrato oggi 6 novembre nella sede della direzione provinciale di Caltanissetta in Viale Regina Margherita alla presenza del commissario regionale la dottoressa Rosalba Panvini e dei sindaci dell'intera provincia nissena una riunione ordinaria interlocutoria tuttavia decisamente rilevante visto l'argomento trattato ovvero il servizio idrico integrato cioè l'insieme dei servizi idrici legati alla captazione dell'acqua potabile al suo trasporto alla sua distribuzione dopo aver effettuato un'attenta raccolta e depurazione delle acque reflue fanno parte di questo sistema anche le fogne miste cioè le fogne che allontanano le acque nere che provengono dalle singole abitazioni faranno seguito ulteriori riunioni